Il tema dell'integrazione socio-sanitaria è il cuore della legge 328 del 2000. L'anno scorso abbiamo festeggiato i vent'anni della legge in un anno del tutto particolare, nel quale la questione dell'integrazione sociale e sanitaria è tornata in modo prepotente di grande attualità. Ne parliamo con l'onorevole Livia Turco, che ringrazia veramente tanto di aver accettato il nostro invito. Onorevole, a suo giudizio, cosa si intende oggi per integrazione socio-sanitaria? Resta un concetto vago nella pratica. Ci troviamo di fronte a un paradosso, che l'integrazione socio-sanitaria è molto normata e poco praticata. Già la 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale prevedeva l'integrazione socio-sanitaria. Poi il decreto legislativo 229, la cosiddetta riforma Bindi, prevedeva l'integrazione socio-sanitaria che fa capo al distretto e prevedeva un atto di indirizzo e coordinamento col Ministero della Solidarietà Sociale. Poi, come ha detto lei, la 328 prevede l'integrazione socio-sanitaria. C'è questo atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria. Le case della salute prevedevano l'integrazione socio-sanitaria. Un riferimento importantissimo, i LEA sanitari del 2017, quindi quelli in vigore, introducono una grande novità che è quella di passare dalle prestazioni ai percorsi di prese in carico e al suo articolo 21, punto unico di accesso all'articolo 22, cure domiciliari, fa esplicitamente riferimento alla necessità di rapporto col sociale. Leggo cure domiciliari. Al punto finale c'è scritto cure domiciliari che sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale. Dunque, il punto è questo, è che pur in presenza di norme, oggi la pratica dell'integrazione socio-sanitaria resta molto problematica. Bisogna intendersi sul perché. Indubbiamente. Il fuoco, la necessità di integrare il sociale sanitario e funzionale al benessere della popolazione, dei cittadini, delle persone. Il concetto di benessere, che evoluzione ha avuto secondo lei e quali possono essere le prospettive operative appunto per andare incontro anche all'operatività dell'integrazione? Guardi, la definizione di benessere è diventata, come dire, riferimento normale, naturale. Anche qui poi bisogna sempre passare dalla definizione ai fatti. La promozione del benessere significa presa in carico della persona nella sua complessità, nel suo ambiente di vita, significa valorizzare le competenze della persona, significa approccio multidimensionale e progetto personalizzato. Questo lo troviamo, per esempio, come concetto fondante alle politiche della non autosufficienza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la non autosufficienza e la definisce in termini di funzionamento. Funzionamento è un termine ombrello che comprende tre domini, l'autonomia del corpo, la capacità di attività della persona e la capacità della persona di partecipare, di coinvolgere. Quindi è l'esemplificazione più puntuale di che cosa significa benessere. Il problema è quello di prima, come mai queste difficoltà? La risposta che mi sono data è che mentre i lea sanitari sono definiti, i lea sociali, speriamo che arrivino, mentre la sanità ha una infrastruttura ben definita che è il distretto, l'infrastruttura sociale è molto debole. Allora, siccome parlo in sede dell'ANCI, dobbiamo lavorare non solo per fare i livelli essenziali di assistenza, ma per rafforzare la infrastruttura sociale. A partire dall'associazionismo dei comuni, ecco, da quello che è indicato nella 328 come l'ambito territoriale che associa i comuni, dobbiamo rafforzare la infrastruttura sociale. Ma secondo lei, in questi oltre vent'anni, il sociale e il sanitario perché non hanno ancora trovato un modo per superare i confini così netti? Perché nel sociale prevalsa la cultura dei bonus e dei trasferimenti monetari, tant'è che si è abbandonata l'idea della rete integrata dei servizi. Adesso si sta riprendendo, adesso vedo con piacere che si sta lavorando per i primi livelli essenziali. Aver abbandonato la rete integrata, aver pensato che il sociale siano bonus e trasferimenti monetari e una molteplicità a 34 fondi, certo non aiuta. Così per quanto riguarda l'ambito sanitario. E lì si dice salute, ma nella pratica non si è coerente col concetto di salute, perché salute ingloba di per sé il rapporto con il sociale. Noi abbiamo una sfida, il PNR. Il PNR è la casa della comunità, se non si realizza lì l'integrazione socio-sanitaria, se chi governa la casa di comunità, l'organismo che governa la casa di comunità non coinvolge pienamente. I sindaci, le professioni sociali non sono case di comunità. Quindi io credo che il tema sia esattamente questo, sia quello di costruire un welfare sociale con i livelli essenziali e la rete integrata dei servizi, ma con una forte infrastrutturazione sociale. Perché se poi gli ambiti territoriali non hanno il personale adeguato, non hanno le competenze adeguate, hanno 10 fonti da gestire e non una programmazione triennale delle risorse, se devono anticipare le risorse rispetto al piano che fanno, beh, fanno una fatica enorme e non hanno certo la possibilità e la forza di interloquire con una struttura invece consolidata come il distretto. Per cui io credo che questo sia il problema. Il problema sia l'abbandono del sociale come rete integrata dei servizi e come infrastruttura sociale e continuare a praticare il concetto di sanità anziché di salute. Bisogna superarlo subito. Il PNR è un'occasione. Guai se non l'accogliessimo. Grazie di cuore Livia Turco e buona giornata. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi di cuore, grazie per il lavoro che fate. Moltissimo, veramente grata. Grazie a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.